Il pensiero dei giovani A 10 anni un bambino dice mio babbo sa tutto A 15-18 anni dice mio babbo sa quasi tutto A 30 anni mio babbo non capisce niente A 40 anni dice se ci fosse sempre mio babbo E' un grande insegnamento A 40 anni dice mio babbo sa tutto